Bene carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Vado a portarvi la testimonianza vincente del bellissimo Ambosecco 3 e 8, vinto sulla ruota di Genova all'8 di aprile di sabato, all'estrazione di sabato 8 aprile. Questa vincita proviene dal fantastico metodo e dalla mia tabella numeretti vincenti che è seguitissima, quindi sono contento che molti seguono le condizioni di questa tabella. È un metodo insuperabile, è un metodo insuperabile. Pensate che nel mese di marzo ha realizzato due Ambi a ruota in due estrazioni consecutive e nel mese di aprile c'entra un altro Ambo a ruota. Che metodo è questo cari amici? Che metodo è questo? Grande colpo, grande esito, grande botto vincente. Do la possibilità ancora per pochissimi di avere qualche copia del metodo. Questa è una grande occasione, chi ha il metodo in mano ha in mano un gioiello, ha in mano un qualcosa di insuperabile. Contattatemi solo via Whatsapp, ve lo metto anche in descrizione il numero, 348 75 47 715, per avere informazioni su come acquisire il metodo completo tabella numeretti. È un capolavoro, è un capolavoro che vi consentirà di realizzare vincite stratosferiche ogni mese, di estratti determinati, di ambate e di ambisecchi. Questo è stato un altro Ambo secco, micidiale, vinto a ruota secca. Tabella numeretti aprile 23, Ambo regalato. Andate a vedere il video, andate a vedere il video, quest'Ambo era in chiaro, non era nascosto. La coppia Genova-Palermo era in chiaro, era scritto nero su bianco. Quindi veramente bellissimo Ambo secco, sabato 8 aprile, è arrivato proprio prima delle festività pasquali, l'estrazione di sabato. Mi raccomando, il metodo è potente, non darò tante copie, non l'avranno tutti, non ci sarà sempre la possibilità di averlo. Adesso è il momento per chi lo vorrà, questo metodo è veramente favoloso. Vi pubblico ogni mese la tabella numeretti e ogni mese andiamo a realizzare vincite. Mi raccomando a non perderlo. Per adesso un saluto a tutti, Mister Sbancolotto. Grazie. Grazie.